Non è scientificamente possibile. Oh mio Dio, va bene, professor Ockin. Mi dica con la sua voce da robot come questo sia scientificamente possibile. Io ho scritto una fanfiction su Stargate, quindi penso di sapere di cosa farlo. Sono impressionato, sei un tale nerdcazzone. Secondo me la vasca è una sorta di vortice energetico, come un buco nero. Ma invece di essere nello spazio, è... in una vasca idromassata. Il tempo non è lineare, ma noi lo percepiamo così. Come Terminator. È ciclico, giusto? Le macchine rimandano indietro Schwarzenegger per uccidere Sarah Connor e non far nascere suo figlio. Ma se John Connor non mandasse indietro Michael Biehn per proteggerla, allora quei due non fotterebbero. E John Connor non nascerebbe mai. Tutto quadrato.